Ed ora, signore e signori, che siete arrivati da tutta Italia, dal nord e dal sud, Matteo, Salvini! Saremo un po' ruspanti, però ve lo posso assicurare a voi, che questa piazza noi la lasciamo più pulita di come l'abbiamo trovata, a differenza di altre zecche che sfasciano vetrine e lanciano uova ai poliziotti. C'è qualche comunista in piazza? Nella nostra Italia non c'è spazio per i campi rom, nella nostra Italia fra tre mesi si sgompera, organizzati, fra tre mesi qua arrivano le ruspe, organizzati, non puoi più campare alle spalle degli italiani, fra tre mesi si sgompera, vai a fare il rom da qualche altra parte, non esiste eccesso di legittima difesa, se entri in casa mia in piedi, puoi uscirne steso, vai a lavorare così non rischi niente, non esiste eccesso di legittima difesa, nella nostra Italia non c'è spazio per i campi rom, nella nostra Italia fra tre mesi si sgompera, organizzati, fra tre mesi qua arrivano le ruspe, organizzati, non puoi più campare alle spalle degli italiani, fra tre mesi si sgompera, vai a fare il rom da qualche altra parte, non esiste eccesso di legittima difesa, se entri in casa mia in piedi, puoi uscirne steso, se entri in casa mia in piedi, puoi uscirne steso, vai a lavorare così non rischi niente, non esiste eccesso di legittima difesa, Renzi è una pedina, Renzi è il servo sciocco, a disposizione di qualcuno che non ha nome e cognome, che da Bruxelles vuole controllare la vita di ciascuno di voi, e va a fare in culo alla fornero, e a chi l'ha portata al governo La 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 Grazie a tutti.